Il 2016 è l'anno di Cristiano Ronaldo. Il pallone d'oro del Real Madrid, laureatosi a luglio campione d'Europa con il Portogallo, è stato infatti insignito di un riconoscimento molto importante per la sua carriera. Il premio UEFA Best Player è andato a lui, dunque, è CR7, il calciatore più forte d'Europa, con buona pace del compagno di squadra Gareth Bale e del francese Antoine Griezmann. Il giocatore dell'Atletico Madrid è stato ricordato dal vincitore nel discorso pronunciato subito dopo aver alzato il trofeo. Sono felice, è stata una stagione incredibile, ha detto Ronaldo, che poi si è rivolto all'avversario aggiungendo. Non sarebbe corretto né elegante dimenticare Griezmann, mi dispiace per le due finali, avresti meritato anche tu. Evidentemente sicuro che non avrebbe mai vinto contro CR7, Griezmann ha pensato bene di trovare in ogni caso il modo di far parlare di sé. E infatti si è presentato alla premiazione dell'UEFA Best Player con pantaloni corti e le caviglie, senza calzini e scarpe piuttosto discutibili. La miss del campione non è passata inosservata sui social, anzi ha suscitato una valanga di commenti ironici o piuttosto duri. Qualcuno scrive, improponibile look per il francese, scarpe senza calzino. Qualcun'altro cinguetta, povero Griezmann, mi fa quasi tenerezza.